8 ottobre 1970, guerra del Vietnam. A Parigi, una delegazione comunista rigetta il piano di pace presentato dal presidente statunitense Richard Nixon. La proposta prevede un cessate il fuoco sul posto, conferenza internazionale sull'Indocina, ritiro delle truppe americane nel quadro di una sistemazione generale messa in atto di un processo politico che rispecchi la volontà del popolo vietnamita. Ma per Nguyen Thi Binh, del fronte di liberazione nazionale, si tratta di una manovra per ingannare l'opinione pubblica mondiale. Grazie.